A Silvi gli interventi anti-erosione fatti nella parte sud hanno retto alla prima mareggiata della scorsa settimana. Le barriere soffolte, i pennelli e il ripascimento della spiaggia realizzati prima dell'estate e da completare nel corso dei prossimi mesi in diverse zone del litorale hanno fermato la forza impetuosa delle onde. Naturalmente dove sono intervenute queste barriere soffolte, questi pennelli e dove soprattutto la regione ha completato questi lavori la situazione non è così drammatica, anzi abbiamo evidenziato che comunque queste strutture hanno retto e sicuramente c'è una migliore condizione del tratto costiero. Nonostante la forza delle onde il mare non ha causato danni agli stabilimenti balneari che si trovano in prossimità del circolo nautico e dell'ex villaggio del Fanciullo. I tecnici comunali hanno anche evidenziato un avanzamento della linea di battigia, un conseguente spostamento di una certa quantità di sabbia dalla riva. Dobbiamo terminare alcuni tratti con le barriere soffolte, la ditta sta andando in maniera spedita, consideriamo che il lavoro va avanti ormai da molto tempo, il mare non aspetta. Oggi siamo preoccupati però nella zona più centrale, più a nord, infatti stiamo facendo una corso contro il tempo per la regione per appaltare un secondo lotto fino a Piazza Colombo perché sappiamo che purtroppo questo fenomeno erosivo poi si sposta e i tratti interessati poi non saranno più quelli a sud ma saranno quelli naturalmente più centrali della città di Silvi. Completata questa fase di interventi il Comune sta lavorando in stretta sinergia con la regione per un ulteriore intervento in difesa della costa. L'obiettivo è quello di fare un piano generale dell'intera costa abruzzese perché sappiamo che con le correnti il tratto erosivo si sposta da una zona all'altra, dobbiamo mettere in sicurezza per quanto mi riguarda il Comune di Silvi, la città di Silvi, almeno arrivare a metà del centro cittadino perché sappiamo che la zona sud e quella centrale è la parte più esposta, la zona nord abbiamo anche delle barriere naturali che sono delle scogliere naturali e dunque potrebbero comunque con le correnti evitare questo fenomeno erosivo, però non lo sappiamo perché oggi ci siamo concentrati nella parte centrale e sud.